Ciao ragazzi, prima di iniziare col video vi faccio un piccolo minuto in un sponsor dove se volete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente contagiosi ci sono gli amici di Eneba e potete comprare degli ottimi giochi a prezzi veramente bassi oppure se volete delle gift card potete andare sul sito, sul loro sito di Eneba, degli amici di Eneba vi lascio il link qui sotto e pure in descrizione e niente, vi lascio al video, ciao ragazzi e ciao a tutti ragazzi, bello in questo nuovissimo video oggi sono qui e vi faccio vedere questa nuova versione del signore di anelli che ho preso in DVD è la special extended DVD edition, il signore di anelli, la compagnia dell'anello in questo formato con la scritta ripiego oro, guardate quante è figa qui abbiamo il laterale, il signore di anelli, special extended DVD edition, la compagnia dell'anello qui abbiamo il retro, dobbiamo vedere l'interno bellissimo questa immagine, guardate quanto è bella fantastica qui si apre, special extended DVD edition e qui c'è una parte della terra di mezzo qui abbiamo un libricino, la compagnia dell'anello le appendici, special, tutte cose da leggere interessanti introduzioni, volumi appendici, parte dal libro al sogno belle, tutte cose da leggere interessanti qui ragazzi ci sono i DVD come potete vedere ce ne sono parecchi ed è un'ottima collezione per chi ama il signore degli anelli ehi 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 come mai non si chiude perché non si chiude non si chiude no cosi no come va come mai perché non si chiude ok adesso si eccolo qua e niente ragazzi mettetevi piace commentate iscrivetevi al canale noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao ragazzi se volete comprare il mio merchandising vi lascio il sito qui sotto in descrizione ci sono le felpe come questa che indosso io con il mio logo qui oppure oltre alle felpe ci sono le t-shirts in vari colori ragazzi e niente detto questo qui sotto in descrizione troverete il link sul loro sito le ordinate e vi arrivo a casa e niente ciao a tutti belli ciao a tutti ciao Grazie per la visione